Artea, retrato, Scorpione, OMS di trae, Scarlett, Griff. Allo stacco, Scarface, Thor impegna Storico Caff per il comando, poi Sexy Model che prova a contenere Sunshine Bar e Cidiesh. Si va all'imbocco della prima curva, 13-3, il lancio, l'errore di Sunshine Bar. Scarface, Thor battistrada a metà della piegata nei confronti di Storico Caff e Sexy Model a tabellone Sunshine Bar. In quarta posizione segue Scarlett, Griff, 400 micidiali in 27-4, va a vea di puro gas, Scarface Thor davanti alle tribune, guida con due lunghezze scarse su Storico Caff, poi Sexy Model, i primi 600 metri in 42-2 a tabellone e finito anche Salice Jet. I cavalli all'imbocco della seconda curva, non ci sono variazioni, non può essere altrimenti perché il ritmo è indiavolato. Scarface Thor completa gli 800 in 58-7, nonostante un parziale in 16-4. Scarface Thor in evidenza sul penultimo rettilineo nei confronti di Storico Caff e Sexy Model. L'allargo prova a muovere Samuair dal fondo del gruppo quando il primo giro se ne va nell'ordine del 14-4. Scarface Thor, Storico Caff che lo fila, Samuair avanza a largo pedinato da Scarlett, Griff, allarga anche Sexy Model e si infila a Scorpione OM all'imbocco della curva finale. 14-6 l'ultimo parziale, 99-200, torna ad allungare il leader a 300 metri alla conclusione, riprende quelle due lunghezze di margine. A Storico Caff e Samuair, Sexy Model per le mie brevi, Scarlett Griff a largo, all'ingresso addirittura Scarface Thor in vantaggio. Richiesto a maggior impegno Samuair che insegue, poi Scarlett Griff per le mie brevi Samuair che però è in crisi ma sul traguardo Scarface Thor porta a casa la vittoria nei confronti di Scarlett Griff. Mentre Samuair è avvicinato da Scorpione OM, anzi Storico Caff avvicinato da Scorpione OM, 1-59-8 il totale, 37 la chiusa, 1-14-9 la media alla chilometra, non è doppio di Antonio Di Nardo e Vincenzo Tufano, vince anche il numero 5 Scarface Thor, i colori del signor Luigi Lettieri, secondo il numero 6 di Scarlett Griff. Mentre per quanto riguarda il terzo, di dentro ancora il numero 4, Storico Caff, si salva da Scorpione OM, 5-6-4 l'arrivo del centrale.